fare una buona raccolta differenziata significa mantenere pulita la nostra città ma soprattutto migliorare il grado di vivibilità del nostro territorio e per questo che vi chiedo di differenziare per differenziarci rispettiamo le modalità di raccolta dei rifiuti ma soprattutto di orari e le modalità di conferimento ricordandoci che il bidoncino marrone è quello per l'umido mentre quello verde lo utilizziamo per la frazione del giorno e allora in bocca al lupo facciamo tutti una buona raccolta differenziata pagani ambiente rispetta sempre la tua città differenziati